wow è ancora top secret non l'ha vista nessuno e ti comunico che l'ho chiamata bacchetta saggia 3000 nemmeno io sapevo della sua esistenza forte grazie vecchio saggio elfo è davvero bellissima tu sei la mia migliore amica wow e parla anche ti voglio bene incredibile sorprendente e non è ancora tutto questa bacchetta ha una caratteristica speciale che nessun'altra bacchetta ha quale caratteristica speciale scommetto che lo scoprirete presto posso solo dirvi che non esiste un'altra bacchetta uguale a questa che cosa intendeva dire è così sibillino io capisco sempre la metà di quello che dice non vedo l'ora di lanciare degli incantesimi con la mia nuova bacchetta saggia 3000 però dovrai aspettare fino a domattina perché è il momento di andare a dormire ciao ciao holly ciao ben ciao gastone ci vediamo domani buongiorno papà buongiorno holly tu sei la mia migliore amica a la nuova bacchetta come va è meravigliosa ti voglio bene buone notizie principessa holly wandy adesso sta molto meglio il medico delle bacchette aveva ragione aveva solo bisogno di un po di riposo questo è fantastico quindi puoi restituire la nuova bacchetta al vecchio saggio elfo credo che la terrò con me ancora per un po non ho nemmeno provato a lanciare un incantesimo oh e che ne facciamo di questa in realtà non ne ho più bisogno puoi metterla insieme ai miei giocattoli come vuoi e così d'ora in poi rimarrai qui holly ha una nuova bacchetta adesso non c'è problema lo aiuteremo noi con i piccoli certo sarà divertente ciao pata susina il re mi chiama cosa vorrà ora pata susina vieni non riesco a trovare i miei occhiali avete provato a cercarli sul naso oh eccoli però dov'è la mia corona oh sto arrivando divertitevi voi due anche zio gastone carletto sta giocando a cavalluccio ora vogliono farlo anche le piccole gastone sembra un po stanco adesso puoi riposarti gastone sta tranquillo giocheremo noi coi cuccioli giochiamo al riporto ragazzi ok ambra prendilo vuole giocare anche smeralda e carletto non si stancano mai no sono pieni di energia ciao ben ciao holly oh guarda i piccoli di coccinella sono davvero adorabili si chiamano ambra smeralda e carletto e sono i nipotini di gastone sembrano un po agitati parecchio devono dormire quando mia sorella non fa il pisolino si agita perché è troppo stanca e cosa succede? si mette a piangere non c'è tempo da perdere cominciate subito a raccoglierle agli orvi raccogliere le more è uno dei lavori più pericolosi che esistano per un elfo perché? perché come sai gli elfi sono molto piccoli e i cespugli di more sono ricoperti di enormi spine e le more più buone sono quelle più in alto oh non riesco a prenderla lasci che l'aiuti ah davvero squisita buongiorno è un piacere vedervi qui non è un piacere vedere qui lei oh è triste sentirglielo dire perché di solito sono piuttosto amato davvero? eh no tutti quanti mi detestano in realtà non c'è da meravigliarsi si è mangiato tutte le nostre fragole le nostre mele e adesso si vuole mangiare anche le more non è giusto oh caspiterina sono terribilmente dispiaciuto non avevo capito che fossero vostre davvero squisita adesso basta basta la smetta subito di mangiare le more non riesco proprio a controllarmi scusatemi guardate è molto bravo a raccogliere le more sì le spine non possono fungermi perché ho la pelle spessa che ne dite di chiedere all'ognomo di raccogliere le more per noi? bravissima Ollie in questo modo avremo ancora la raccolta e anche il ballo del raccolto il ballo del raccolto? oh io adoro danzare posso venire anch'io? no! lo prenderò come un sì ditemi a che ora devo venire? signor gnomo lei potrà venire al ballo solo se raccoglierà le more al posto nostro a fare fatto allora noi vogliamo che riempia l'intero camion di more ha capito bene? la ringrazio non c'è problema la prima mora sta arrivando oh è molto succosa davvero squisita no non nella sua bocca qui sul camion oh buongiorno Riccardo vedo che avete provato la mia marmellata di lumache eh sì potrebbe farmi tornare come prima la prego perché? non vi piace essere una lumaca? è meraviglioso solo che mi sento un po' appiccicoso oh come preferite oh così va meglio signora strega può farci smettere di ballare? ma certo e può anche far tornare i miei capelli come erano prima? con piacere e le dispiacerebbe riprendersi queste cose? io non le voglio più eh? ma come? gettare via tutte queste cose mi ha fatto capire che è arrivato per me il momento di fare le pulizie di primavera per caso qualcuno di voi vuole un pentolino magico? e adesso cosa facciamo? non possiamo lasciarli in giro sono tutti oggetti troppo pericolosi mh è il caso che ci pensi io cielo ma che cosa ha fatto alla sua casa? che cosa volete dire? come era sistemata prima andava benissimo era molto più da strega oh oh questa lampada starebbe a meraviglia qui è proprio dove la tenevo e la marmellata di lumache starebbe a meraviglia qui infatti lì è dove è sempre stata il tappeto qui e lo specchio qui e dove sono sempre stati? sa che lei ha davvero un ottimo gusto signora strega? non mi stupisco che la sua casa sia così bella oh vi ringrazio voi siete un uomo adorabile oh beh che dire faccio del mio meglio arrivederci signora strega arrivederci a voi e grazie per il vostro aiuto paparino tu sei davvero convinto che tutti quegli oggetti rendano bella la casa della signora strega? no quel posto per me è un vero porcino ti ringrazio bimbo elfo no uomo elfo troviamo dove si nasconde fragolina e chiediamole di far smettere di nevicare subito la neve ha ricoperto interamente il piccolo regno fa freddo anche qui sì questo trono di ghiaccio ha congelato il mio povero sederino non potresti trasformarti nella regina del sole adesso? è troppo tardi ormai sono la regina del ghiaccio il nascondiglio segreto di fragolina deve essere da queste parti secondo te in quale posto vivrebbe una super malvagia come fragolina la regina del ghiaccio? che ne dici di quello? wow un enorme palazzo di ghiaccio è molto meglio dell'elfocaverna mille volte no non è vero è tutta scena non cantare vittoria regina del ghiaccio che cosa vi porta da queste parti bimbo elfo? sono l'uomo elfo siamo venuti qua per fermarti ma voi non potete fermare la potente regina del ghiaccio fa freddo qui dentro fragolina gli adulti si stanno lamentando di tutta la neve che ha ricoperto il piccolo regno ops davvero? sì e siamo nei guai? io non credo che siamo nei guai basta che la smettiamo con questo gioco va bene ho vinto io? no i buoni vincono ma non è giusto voi siete in trappola ah ok avete vinto voi urrà finalmente posso liberarmi di questo trono di ghiaccio il mio sederino è congelato oh che bello è tornato in su rivoluzione chiamo a raccolta gli alfi abbasso il re è molto peggio di così lui mi ha ordinato di andare in in vacanza oh ma è incredibile lo so che sei sconvolta è una notizia meravigliosa non siamo mai andati in vacanza ma che cosa stai dicendo? una volta siamo andati al mare era una gita di un giorno e siamo anche andati sulla luna tu? io sono rimasta a terra oh è vero e va bene se non c'è altra scelta andiamo in vacanza urrà! il piano è questo prendiamo l'aereo degli elfi e andiamo in un posto carino oh fantastico fantastico facciamo un pranzo veloce sì riordiniamo e poi ritorniamo a casa in tempo per la mia consegna serale questa non è affatto una vacanza adesso stammi bene a sentire signor elfo ce ne staremo via per almeno una settimana andremo in un posto caldo e tu ti dovrai rilassare ma io sono un elfo e agli elfi non piace per niente rilassarsi allora dovrai imparare a farlo sarà molto divertente signor elfo lo vedremo ma questa è una vacanza degli elfi e quindi niente magia Olly hai capito? va bene signor elfo e non voglio animaletti dai papà la vacanza è mia e le regole le faccio io mi dispiace Gastone dovrai rimanere nel piccolo regno ciao ciao Gastone avanti salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza per favore signor elfo cerca di divertirti un po' d'accordo ci proverò pronti per il decollo? sì si parte noi in vacanza andiamo noi in vacanza andiamo e ci divertiamo e ci divertiamo forza papà canta con noi sì vedrai che cantare è molto rilassante non posso rilassarmi adesso le gemelle sono scappate sono uscite dal castello devo suonare subito l'allarme gemelle oh vi state agitando tanto per niente oh davvero? le gemelle sono là fuori da qualche parte con la tua bacchetta quali altri incantesimi hanno imparato? oh devo aver detto qualcosa sugli alberi che camminano credo albero cammina cammina papà gli alberi stanno venendo verso il piccolo castello non voglio nemmeno sentirlo è come un brutto sogno immagino sia tu la responsabile di questo tata Susina no è stata nonna Cardo buongiorno cari nonna Cardo? dovevo immaginarlo ne è passato di tempo Cedric non abbastanza Millicent sei sempre stata una portatrice di guai sì madre è tua la colpa e tu dovrai trovare una soluzione d'accordo sei tu il capo penso che i bambini debbano divertirsi un po' tutto qui divertirsi va bene ma ci sono dei limiti e di sicuro tu li hai superati oh santo cielo Daisy e Poppy che ci fate qui da sole? coniglio o coniglietto? ovetto? ranacchio? e ora in cosa lo trasformerete in una banana? banana sono una banana oh tesori miei eccomi qui vedo che avete fatto tante bellissime magie non ti preoccupare ti prometto che sarò attenta holly adesso sono enorme scusa Ben mi spiace è stato un incidente ma così non possiamo più giocare insieme sì invece devo solo diventare grande anch'io bene ora siamo entrambi enormi c'è qualcuno arriva la gente grande ci nascondiamo ma non possiamo farlo siamo troppo grandi che cosa facciamo? oh è solo Lucy ehi ciao Lucy oh ciao vi conosco Lucy siamo noi Ben e Ollie oh è vero ma siete enormi siamo diventati grandi con una magia wow è fantastico io sono qui con le mie amiche Katie e Yasmin le volete conoscere? ma la gente grande non deve scoprire che esiste la gente piccola lo sai ma io so tutto di voi tu sei speciale preoccupatevi sembrate gente grande non possono scoprirlo ok ma non dobbiamo rivelare loro nessuno dei segreti degli elfi o delle fate ciao loro sono i miei amici Ben e Ollie io sono Yasmin e io sono Katie il tuo costume da fatina è una meraviglia grazie dove abiti Ollie? in un castello delle fate un castello delle fate? dici sul serio? Ollie! eh volevo dire che abito in una casa e tu dove abiti Ben? io vivo in un albero in un albero? voglio dire in un condominio noi lo chiamiamo l'albero sai anche io vivo in un condominio noi lo chiamiamo condominio e basta ricevuto forza ragazzi si comincia diamoci da fare oh cielo che cos'è questo rumore? pronti a sollevare salve vostra maestà ah sì continuate abbiamo caricato tutto ragazzi potete andare papà hanno portato via tutto il nostro castello questo è un vero disastro eccomi oh no è la mamma posso guardare adesso? puoi farlo solo se chiudi gli occhi oh è divertente è come nei programmi che guardo in televisione posso aprire gli occhi adesso? non lo farei ditemi voi quando posso circa fra un mese dove è finito il castello? ecco cosa credi che diranno i calendula quando vedranno questo? rideranno 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 oh no i calendula sono arrivati ciao cara sorella oh mamma mia oh mamma anche mia non è proprio come ce lo aspettavamo però non so davvero che cosa dire beh non è ancora finito è meraviglioso sì è incredibile volevamo soffitti alti voi li avete eliminati del tutto già e guarda qui l'angolo bagno sì essenziale è completamente aperto lo trovo così avventuroso beh devo ammettere che quella è stata una mia idea re cardo vecchio mio sei davvero un architetto nato è vero hai mai pensato di insegnare architettura? oh veramente no c'è nessuno? sono spariti tutti quanti hanno lasciato le bacchette oh è bello averti di nuovo con me ehi tata adesso che hai di nuovo la tua bacchetta magica ti dispiacerebbe? sarà un vero onore accontentarla grande mago ti do il permesso ritorna te stessa allora dove saranno finiti quei poveri bambini? temevo che sarebbe successo purtroppo Daisy e Poppy devono aver trovato il passaggio segreto scusate dove porta questo passaggio segreto? porta alla stanza segreta non avevo idea che noi ne avessimo una certo perché è un segreto questa stanza contiene una grande energia magica che non deve assolutamente essere liberata allora i bambini non dovrebbero essere chiusi lì dentro riesco a sentire le loro voci stanno ridendo e sento anche qualcos'altro non dobbiamo assolutamente entrare ma insomma quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari tranquilli ci penso io buona fortuna mia coraggiosa e dolce Susi oh che cosa riesci a vedere? delle cose spaventose? arrivo tata barbarossa alla riscossa ecco i bambini sani e salvi arrivo tata resista tata Susina ce l'abbiamo fatta e in salvo adesso mio dolcissimo pasticcino ho visto delle cose terribili in mare ma niente niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa urrà! andiamo subito in cucina adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti una mora dello zucchero mezzo limone la rugiada bava di lumaca e l'ultimo ingrediente un rutto di rana e adesso la formula magica zucchero e limone mora fragrante rugiada, rutto e baba mescolatevi all'istante quell'intrulla avrà un gusto davvero spaventoso no Ben non ti ricordi? è una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta nessuno berrebbe questa cosa oh perbacco ma è davvero terribile ha un gusto assolutamente disgustoso paparino ma tu non avresti dovuto berla avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi cosa? mi chiedo che succederà adesso vediamo un po' cosa dice il libro bla 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 oh perbacco che significa? mi sono sbagliata quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune era una cura per la calvizie però devo dire vostra maestà che i capelli lunghi vi donano moltissimo tata Susina credo che il raffreddore sia sparito urrà il re mi ha attaccato il raffreddore guardate un verme è scappato via non dobbiamo darci per vinti proviamo di nuovo ecco un altro io mi arrendo sono difficili da prendere ma questo piccolo uccellino è molto affamato dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano ma non cinguetta abbastanza forte tata usa la magia fanno cinguettare più forte sì subito rendilo all'istante un uccellino gigante oh no hai usato la formula magica sbagliata l'uccellino sta diventando enorme non ho sbagliato affatto l'ho reso più grande così cinguetterà più forte non preoccupatevi l'incantesimo non durerà molto e quanto durerà tata Susina? potrebbe svanire tra un minuto o una settimana l'incantesimo ha svanito e la mamma uccello sta arrivando urrà! che cosa ha detto? ha detto grazie di tutto e ciao 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 Ollie questa era la nostra ultima consegna possiamo giocare tu avrai anche finito Ben ma io sto ancora lavorando qui Ollie è il momento del tuo discorso salve avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare ottimo lavoro ottimo lavoro urrà! urrà! viva il principale che succede adesso? c'è la parte più difficile dobbiamo starcene seduti senza addormentarci in onore di sua maestà Riccardo ci esibiremo in una danza che orrore adesso è anche peggio eccezionale davvero bravi avanti papà andiamo a ballare cosa? ma io oh d'accordo potreste suonare qualcosa di più moderno certo maestà sai papà il tuo lavoro mi piace è divertente oh oh hai ragione Ollie essere re è uno spazzo per me si sta mettendo male Ollie si è nascosta troppo bene credo che non ce la farò mai a trovarla ti ho trovata oh ma come fai a vedermi? io sono invisibile oh non sono più invisibile l'incantesimo è svanito l'incantesimo? oh ecco io ho usato soltanto un pizzichino di magia lasciamo perdere perché non facciamo un altro gioco? ti prometto solennemente che non userò le mie ali e la mia magia va bene allora adesso giochiamo a Ben Ollie bambini le tortine sono pronte ma signora elfo dobbiamo per forza entrare in casa non possiamo giocare ancora un pochino? questa è proprio bella credevo che una certa principessa delle fate e un certo elfo trovassero noioso giocare ma mamma noi abbiamo appena cominciato a giocare insieme e tu hai detto che le tortine dovevano cuocere tanto infatti ci hanno messo tantissimo davvero? vi è sembrato che il tempo volasse perché vi stavate divertendo succede spesso oh volete assaggiare una tortina? sì grazie è deliziosa è squisita queste tortine sono fantastiche e la signora elfo non ha nemmeno usato un po' di magia ti ringrazio Ollie ma credo che sia tutto merito di come hai mescolato l'impasto la vuoi vedere una magia? va bene io posso fare sparire questa tortina ma come? credevo che gli elfi non sapessero usare la magia osserva attentamente la gallina è fuori controllo si salvi che può prendete quella gallina svelti salite sul camion seguiamo quella gallina perché ci siamo fermati? oh no la molla deve essere ricaricata aspetta Ollie ti do una mano io oh buongiorno qualcuno mi può portare un uovo? abes! oh mamma mia tata Susida ti avevo detto di non fare apparire una gallina ma non l'ho fatta apparire io tata? tu sai parlare la sua lingua? certo vostra maestà allora che cosa ha detto? la signora gallina dice guardate laggiù c'è la nostra gallina attenzione tata Susina quello è un animale estremamente pericoloso ma non dire sciocchezze è soltanto una gallina la gallina ha deposto un uovo urrà! 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 grazie a tutti! grazie a tutti!